Sarà giochi di luce di crudo, ho incorso la finalissima del torneo di calcio Balilla nel quale si sta giocando ben 5 ore Questo è il terzo match, sono 2 a 0 per Raimondo e il compagno in momento è 4 pari, si vince a 6 Un punto, un gol per Raimondo e il compagno per vincere Il popolo le vi ai dup Chengori Da l'ord象 La Departat Lei Ia, cise ocazia tu te fai Mi patete Grazie. Grazie.